In caso di sinistro stradale, se il danneggiato ha fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale, la relativa spesa, qualora sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto a risarcimento, va rimborsata. È quanto stabilito dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza numero 997 depositata il 21 gennaio scorso. Secondo gli ermellini, le spese sostenute dal cliente durante la fase stragiudiziale per tentare di ottenere risarcimento possono essere ricomprese nella successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni, sotto il profilo del danno emergente.